La nuova sede dell'Associazione Via Pacis ad Arco sarà inaugurata domenica 7 maggio. Oggi il Presidente Maino, assieme ai suoi collaboratori, ha presentato il programma ed illustrato quali sono le finalità dell'Associazione. L'Associazione Via Pacis, vogliamo spiegare ai cittadini dell'Alto Garda qual è l'attività svolta? L'attività svolta sono varie attività, soprattutto noi puntiamo molto sull'educazione al dialogo, alla pace e alla dignità di ogni persona. Uno dei nostri punti caldi o forti è la solidarietà sia a livello locale sia a livello internazionale. Facciamo dei progetti, macro-micro-progetti per questo, ma puntiamo molto sull'alfabetizzazione. Anche in questo centro, che possiamo avere, noi abbiamo a disposizione alcune stanze, perché possono venire gli studenti a studiare o passarci. Si passano allo studente universitario, aiuta lo studente delle superiori, quello delle superiori aiuta lo studente delle medie e così via. Poi facciamo anche dei percorsi di formazione a livello di sobrietà, a livello di stili di vita. Ma puntiamo molto sulla rompere i muri per che ci sia il dialogo in ogni famiglia, in ogni persona, con se stessi, con il mondo. Sono molte le vostre sedi anche all'estero. Possiamo riassumere i numeri della vostra associazione? Noi operiamo in 16 paesi. Siamo presenti in 16 paesi. Abbiamo dei referenti in loco. Via Pacis si è sviluppata sempre di più. Forse anche perché puntiamo molto su una formazione, non tanto subito a livello economico, ma di pensiero. Puntiamo molto, dicevo prima, sulla scolarizzazione, sull'alfabetizzazione. E tutto pronto per domenica 7, per il giorno di inaugurazione? Sì, domenica 7 iniziamo l'inaugurazione il pomeriggio, iniziamo verso le 14, per chi vuole visitare il centro. E poi con l'arcivesco e merito Monsignor Bressan faremo l'inaugurazione con qualche personaggio della provincia, col sindaco di Arco, di Riva. E poi con l'arcivesco e merito.